Abbiamo pensato a casa nostra, per cui una stanza che in qualche modo riflettesse quello che ognuno di noi poteva desiderare a casa, per cui sicuramente un divano, sicuramente dei colori, sicuramente qualche pianta, libri da leggere, un pensiero da scrivere. Una stanza per poter stare assieme ai propri cari all'entrano della quale poter trascorrere anche le notti. Si tratta della Human Care Room allestita all'interno del reparto di pneumologia dell'ospedale San Donato di Arezzo. La stanza è arredata con arredi più simili a quelli di un'abitazione che è di un luogo di cura, con divani letto per ospitare i familiari che vogliono trascorrere momenti più difficili con il proprio caro ricoverato in ospedale. È una stanza particolare dedicata a pazienti con patologie respiratorie avanzate, complesse, che ancora richiedono un trattamento medico attivo, ma per le quali è fondamentale la possibilità di assicurare la presenza costante di familiari e cure che possono essere più umanizzate, perché molto spesso questo tipo di percorso è quello che poi accompagna la persona che ha già lottato per tanto tempo verso il termine di questo tipo di malattia. Può fare poi la differenza in fasi estremamente veramente delicate e difficili, in cui anche ecco noi medici ci troviamo molto in difficoltà quando al di là della terapia massimale che diamo non sappiamo effettivamente cosa poter dare in più. Accanto ai pazienti potranno stare non solo i familiari ma anche gli amici a quattro zampe, come è già successo nel 2021 proprio all'interno del reparto del San Donato. Nasce con il Covid perché appunto sappiamo tutti che periodo è stato, ma sicuramente poi ce lo siamo promessi, che una volta superato quello dovevamo fare qualcosa che il Covid ci aveva insegnato, appunto la possibilità per chi lo desiderava di avere un affetto vicino, due, tre, e non è detto, non è nascontato che potrebbero essere solo umani e questo ha dato sì, abbiamo avuto la possibilità di portare anche gli amici pelosetti qua. Gli arredi sono stati donati dall'associazione Respiro Vita. Sono qui a ringraziare tutte le persone della cittadinanza che ogni anno ci supportano e partecipano ai nostri eventi, potendoci così garantire di realizzare tutti questi progetti.